Eccoci, siamo con Edoardo Belfanti. Ciao Edoardo. Ciao, buonasera a tutti. Allora, scacco alla capolista. Eh sì, risultato molto importante, era quello che volevamo per dare continuità ai risultati positivi delle ultime settimane. Insomma, ci siamo riusciti anche con buon risultato. Siamo molto felici tutti quanti. Sei stato uno dei protagonisti in campo perché abbiamo visto che hai corso da tutte le parti. Sì, peccato per quel terzo gol che avevi fatto un passaggio straordinario. Dispiace, non so, adesso magari la rivedremo, non so se era fuori gioco o no. Dispiace, si poteva chiudere comunque sia la partita, un 3-0 risultato ancora più bello. Però dispiace, dai. Insomma, speriamo comunque di domenica di ritrovarci preparati e di fare un'altra grande partita e un altro gran risultato. Il risultato, sì, abbiamo detto importante contro, abbiamo detto, una squadra molto ben organizzata che merita sicuramente di stare in alto sulla classifica. Però, praticamente, non avete sbagliato nulla. Era questo che aveva chiesto il mister? Certo. Il mister ci chiede sempre in primis compattezza, stare corti e lo stiamo svolgendo nei migliori dei modi. Si vede anche il risultato degli ultimi partite che non abbiamo preso gol nelle ultime quattro partite. È molto importante ed è per questo che siamo riusciti a portare a casa il risultato anche oggi. Allora, grazie Edoardo e in bocca al lupo per le prossime. Grazie, grazie mille.